Io non so voi ma me triggera un sacco vedere delle scene in cui il cielo, le finestre sono sovraesposte mentre il soggetto è totalmente sottoesposto. È una cosa che veramente non riesco a sopportare. Ecco che finalmente faccio un tutorial serio, utile, in cui vi insegno come esporre correttamente una scena, quindi come poter potenzialmente filmare anche davanti ad una finestra come quella che vedete alle mie spalle. Sappiamo benissimo che è difficile riuscire ad esporre correttamente sia le ombre che le luci all'interno di una scena ed è proprio in questo preciso istante che ci corre in aiuto l'attrezzatura. Altra cosa che è molto difficile controllare è proprio l'intensità luminosa perché mentre alle 2, alle 3 del pomeriggio la luce può essere molto più dura, molto più intensa, in questo momento sta già calando, infatti presumo che quello che c'è dietro di me, l'illuminazione che sta dietro di me sarà già cambiata all'interno di questi pochi frame, quindi abituiamoci a questo. Se prima si verificava solo in qualche occasione, adesso con tutta la questione delle zone rosse, arancioni, verdi, gialle, blu, viola, arancio, eccetera, apparire bene in video all'interno di una call su zoom oppure per la didattica a distanza o per un colloquio a distanza o qualsiasi tipo di ripresa è ancora più fondamentale. La soluzione, come ho detto, è molto semplice, basta utilizzare una fonte di illuminazione. Io in questo caso utilizzo un Godox SL60W con un softbox, quindi magari non è una cosa alla portata di tutti, però presumo che se siete un filmmaker, se siete un fotografo, se siete un videomaker che ha una certa esperienza e ha anche una certa attrezzatura, probabilmente una luce in casa già la avete e potete utilizzare quella. Se invece sei uno studente, un lavoratore che fa spesso delle chiamate su zoom e si trova sempre ad avere lo sfondo molto illuminato, troppo illuminato e il volto troppo scuro, quello che ti basterà fare sarà semplicemente accendere una luce che sia puntata direttamente verso di te. Quello che succede principalmente è che ci troviamo a dover esporre correttamente o le luci o le ombre. Di conseguenza uno delle due o apparirà sovraesposto, se esporrò per le ombre, o sottoesposto, se al contrario invece esporrò per le luci. In questa scena però potete vedere che sono esposte correttamente sia le luci, come alla finestra alla mia destra, sia le ombre, quindi sostanzialmente io. Questo perché io sto utilizzando una luce, un softbox, che mi illumini, quindi ho una key light che mi sta illuminando, consentendomi banalmente di illuminare le ombre e portarle circa allo stesso valore delle luci. Quindi al termine di tutto ciò io avrò la finestra che è esposta quasi allo stesso modo del soggetto. Ovviamente un distacco ci sarà, del contrasto ovviamente ci sarà, però sostanzialmente riusciamo ad andare a correggere questo difetto semplicemente utilizzando una fonte luminosa. In questo video non ti spiegherò precisamente come si fa ad esporre correttamente per le luci, però ti posso anticipare che solitamente per esporre correttamente delle luci o si chiude il diaframma oppure si utilizzano dei filtri ND, variabili o fissi, poco cambia. Non devi per forza essere un fotografo o un filmmaker per poter applicare una tecnica di questo tipo, quindi che tu stia filmando un documentario, un video per YouTube, il video di ricordo di famiglia, anche se ormai con la famiglia quasi non ci si può più trovare, oppure se spesso utilizzi Zoom per delle chiamate, degli appuntamenti virtuali o se sei a maggior ragione uno studente che si trova ogni giorno a dover fare la famosa didattica a distanza, allora vedrai che questa tecnica la troverai utilissima anche nella tua vita di tutti i giorni. Per concludere io spero che questo video ti sia piaciuto e che possa tornarti utile. Spero di averti risolto qualche dubbio nel caso tu stessi cercando proprio una soluzione al tuo problema e se così fosse ovviamente ti invito a continuare a seguirmi per moltissimi altri contenuti, per nuovi video, per nuove foto, qui su YouTube ma anche su Instagram dove pubblico la maggior parte dei miei progetti. In ogni caso noi ci vediamo la prossima settimana in un nuovo video. Peace! Quasi dimenticavo il microfono, continuo a tenerlo in mano perché ancora non ho acquistato una pulce, un lavalier da attaccare qui alla maglia, alle felpe eccetera. Quindi Thomas, Nigro, Conte, mi dispiace, so che state guardando questo video, questo lo dedico a voi, perdonatemi. Molto presto farò un piccolo upgrade. Ciao, baci!